La Divina Commedia, Don Quixote, i Promessi Sposi, l'Orlando Furioso, cos'hanno in comune queste grandi opere dell'ingegno umano? Semplice, sono apparsi insieme a mille altre sulle pagine del topo in forma di parodia, anzi, di grande parodia. Il fortunatissimo filone, iniziato nel 1949 agli esordi del Topolino Libretto con il celeberrime inferno di Topolino, è un fenomeno tutto italiano ancora in auge e caratterizzato da peculiarità ben precise. Un'analisi trasversale e molto puntuale della vicenda delle grandi parodie è quella che fanno quattro studiosi dell'Università di Cagliari in questo saggio. Le grandi parodie Disney, ovvero i classici fra le nuvole, edito da N.P.E. Il volume imbastisce quella che è una vera e propria critica letteraria al filone e analizza ad esempio la duttilità dei vari personaggi da Paperino a Topolino a Paperone nel calarsi nei panni dei protagonisti delle parodie. Viene ricostruita la vicenda iniziale delle parodie quando tra fine anni 40 e metà anni 50 Guido Martina battezzò il genere. Ecco, il genere, si può parlare di genere? O è meglio in questo caso parlare di generi? Anche la risposta a questa domanda sulla fisionomia letteraria delle grandi parodie viene indagata nel saggio. Così come è presentata ad esempio la differenza tra parodie con cornice introdotte da un sogno, un racconto, un ricordo, un incantesimo come il Paperin Furioso, parodie in costume veri e propri come i Promessi Paperi, ufficendi in cui i nostri beniamini sono esattamente loro stessi nel loro consueto tempo e spazio, ma la trama è palesemente ispirata a un'opera letteraria come la Paperopoli Liberata. Questi e molti altri sono gli spunti che il volume lancia sempre sospeso tra la rigorosa analisi accademica e l'affettuoso omaggio di veri appassionati di Paperi e Topi quali gli autori sono. Proprio per questo il volume va incontro alle esigenze sia dell'appassionato, del semplice e curioso che voglia approfondire il fortunato filone, che ad esempio dello studente che abbia idea di costruire sul tema una tesi o una tesina. Soprattutto perché ogni capitolo suggerisce letture supplementari per approfondire e sviscerare ulteriormente i temi proposti. Per tutto aprile potete acquistare il volume con il 10% di sconto sul sito della NPE. È sufficiente inserire in fase di acquisto il nostro codice DISNEY10, valido fino a venerdì 30 aprile. Ma qual è la tua grande parodia preferita? Non lo so, bella domanda. Se posso citarne due o tre, sicuramente il Paperin Furioso, il Lotto Paperus, il Mistero dei Candelabri. Per fortuna sono veramente tante. La vostra preferita qual è? Non lo so, bella domanda.